aspetta prima di fumare o svappare ci sono molte cose da sapere mi chiamo luciano in questo video ti darò alcuni consigli per gestire meglio il consumo di tabacco in questo periodo difficile dobbiamo stare tutti a casa in questo momento ma il coronavirus non è il solo pericolo anche il fumo danneggia gravemente la nostra salute soprattutto ora come fumatori potremmo avere difficoltà a tenere sotto controllo il nostro consumo non sappiamo cosa fare magari ci mettiamo a fumare per noia questo non solo è dannoso per la persona che fuma ma anche le persone che ci circondano possono soffrirne però con alcuni buoni suggerimenti possiamo gestire questa situazione ci sono molte attività che sono molto più sane del fumo pensa a cosa potresti fare invece di prendere una sigaretta ad esempio fai esercizio fisico cucina cibi più sani o chiama i tuoi amici per telefono o videoconferenza organizza la tua giornata puoi anche pianificare le tue pause sigaretta iscrivile nel tuo programma e appendilo in una posizione centrale della tua casa questo rende più facile rispottare il programma che ti sei dato tu stabilisce un obiettivo per la quantità di tabacco che consumerai oggi e mantieni la un altro obiettivo importante e non fumare all'interno della tua casa questo è l'unico modo per proteggere la tua famiglia il fumo passivo è particolarmente dannoso per i bambini quindi non fumare mai in presenza di giovani se hai ancora voglia di fumare vai a fumare fuori devi fare tutto per proteggere i tuoi cari quando utilizzi il balcone per fumare assicurati di chiudere bene la porta e le finestre se vuoi fumare in casa non farlo vai fuori questo è l'unico modo per mantenere l'aria pulita in casa per la tua famiglia molte cose sono diverse nella situazione attuale ma è anche una fantastica opportunità per staccare dalle vecchie abitudini quindi cogli l'occasione smetti di fumare oggi si puoi farcela per prima cosa prova a fumare di meno se riduce a poco poco il consumo ti abitui lentamente e non dimenticare chiunque può smettere a volte soprattutto quando provi da solo smettere di fumare può essere difficile perciò non esitare a chiedere aiuto ad esempio è possibile chiamare la linea telefonica stop tabacco i consulenti saranno felici di aiutarti ti consiglieranno personalmente in diverse lingue e possono aiutarti anche per un lungo periodo con diverse chiamate telefoniche gratuite naturalmente le discussioni rimangono confidenziali e anonime un'altra opzione di sostegno è l'app per il tuo smartphone in questa app troverai molti suggerimenti e funzioni utili per smettere di fumare esistono molte strategie per smettere di fumare ma il modo migliore è sempre con l'aiuto di qualcuno non devi fare l'errore da solo perché non chiedi aiuto alla tua famiglia o gli amici vedrai saranno felici di aiutarti quindi pensaci oggi e in futuro controlla i tuoi consumi protegge la tua famiglia e cogli l'occasione per smettere di fumare per maggiori informazioni visita il sito stop smoking punto ch ti tengo i pugni e ti auguro tanto successo grazie a tutti 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 grazie a tutti